niente facevo ci tenevo a fare questa storia perché sicuramente voi avete visto tra virgolette nascere la mia relazione quattro anni fa con nicole sono passati questi giorni avete chiesto avete chiesto insomma tante cose che perché non possiamo foto insieme perché perché vedete un distacco tra di noi e giustamente visto che che voi avete avete comunque seguito la nostra storia avete fatto per noi avete comunque seguito tante cose tante cose belle della nostra relazione giusto che voi sappiate che oggi è finita con nicole cioè abbiamo fatto questa scelta per il bene di tutti e due perché eravamo arrivati un momento della coppia che penso che che penso che possa succedere a chiunque nel senso che dobbiamo capire veramente cosa volevamo della vita per capire questa cosa dobbiamo assolutamente allontanarci e niente abbiamo fatto questa scelta e spero che voi la capiate e la la potete capire bene nel senso prendere bene non prenderla male assolutamente e niente vi mando un bacio e grazie grazie ai messaggi di sostegno